Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui per una nuova pillola del Coraggio di ogni giorno, grazie per essere con noi. È per noi un piacere avere in collegamento da Genova il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno, grazie a voi dell'invito. Professore, possiamo dire che in qualche modo il Coraggio di ogni giorno è anche il suo, che è al di là in realtà della sua attività professionale, quella appunto di infettivologo, per aver affrontato soprattutto negli ultimi anni quella che è stata la pandemia, che in qualche modo cerchiamo ancora di lasciarci alle spalle, è stato poi anche vittima di minacce solo e semplicemente appunto per fare il suo dovere, in qualche modo possiamo dire un dovere che era quello di raccontare la verità e soprattutto per rispetto a quelle che sono state le morti che il Covid ha lasciato alle spalle. Ma sì, purtroppo io come tanti altri sono stato vittima di attacchi vili, direi, codardi e purtroppo con una violenza molto forte nei confronti miei, nei confronti della mia famiglia, nei confronti delle persone che mi erano a fianco, soprattutto per aver cercato in qualche modo di convincere o di qualcuno di spingere per le vaccinazioni, che la vaccinazione per quanto riguarda il Covid è quella che in qualche modo oggi ci sta portando fuori in maniera così importante dalle sabbie mobili nelle quali eravamo nel 2020-2021, le sabbie mobili dei caschi, delle polmoniti, delle intubazioni e credo che i vaccini abbiano dato un impulso straordinario a quello che sta succedendo oggi in Italia. Purtroppo a qualcuno non piace stare dalla parte della scienza e quindi alcuni di noi hanno pagato più di altri e devo dire che avere vissuto e vivere sotto scorta non è certamente una cosa piacevole, soprattutto non è una cosa piacevole quando pensi di fare il bene degli altri. Professore, c'è anche un suo post Facebook di qualche giorno fa, chiederei anche alla regia di mandarlo, così lo possiamo anche leggere. Lì ha scritto, chi dice che gli ospedali sono pieni di intubati a causa del Covid e di malati con forme gravi da SARS-CoV-2 non frequenta gli ospedali, probabilmente non vi è mai entrato per il bene dei pazienti, tra l'80 e il 90% di chi entra in ospedale in rianimazione con tampone positivo per SARS-CoV-2 non ha il Covid ma altro. Finiamola di dare bollettino dei tamponi senza valutare i pazienti e le persone. Cosa possiamo dire che è cambiato poi sostanzialmente dal 2020 ad oggi? È effettivamente una discesa quella che stiamo vivendo oggi? Quale sarà l'estate che abbiamo di fronte ancora per i prossimi mesi? In autunno continuerà una discesa o è facilmente immaginabile di magari tornare indietro a periodi che vorremmo dimenticare? Ma guardi, quello che stiamo vedendo oggi è un'importante fiammata estiva di una variante che è la variante Omicron 5 che è veramente molto contagiosa. Diciamo che se entra in una cena qualcuno che si contagia o in una festa o in una discoteca è molto probabile che moltissime persone intorno a lui o a lei si contageranno. E quindi è evidente che noi oggi viviamo una diffusione molto importante del contagio che però poi alla fine a livello ospedaliero di persone con la polmonite e quindi col quadro impegnativo da Covid che vedevamo nel 2020 e nel 2021 sono oggi meno del 20%. La stragrande maggioranza di quelli che entrano in ospedale o erano già positivi a casa e entrano in ospedale per ragioni diverse dal Covid per una frattura, per un intervento chirurgico perché hanno un problema al cuore perché hanno un ictus oppure risultano positivi all'ingresso perché viene fatto il tampone di screening. Quindi non è minimamente paragonabile. Vede, se noi oggi dicessimo che sono entrati in Italia 300 persone in ospedale con il Covid diamo un dato che è parziale. Dovremmo dire quante di queste 300 persone hanno la polmonite o dei segni, dei sintomi compatibili con il Covid? Il 20% bene, 60. Le altre 240 non dovrebbero neanche essere contate perché evidentemente non c'entrano nulla con il Covid ma hanno una positività che ovviamente li porrà a dover stare in una stanza separata rispetto agli altri ma nulla ha a che vedere con la patologia che vedevamo nel 2020 e nel 2021. Professore, oltre ad Omicron 5 di qualche giorno fa ha un inizio di una nuova variante la cosiddetta variante indiana diciamo che le stiamo vivendo probabilmente tutte le varianti dal 2020 ad oggi c'è da preoccuparsi anche di questa variante o semplicemente siamo di fronte ad una variante più contagiosa ma che magari come Omicron 5 come anche lì ha detto qualche giorno fa probabilmente si ferma nelle vie alte nelle vie alte respiratorie ma guardi io credo allora BA275 è una variante di una variante quindi una sotto variante della Omicron 2 probabilmente si dice già che sia veramente molto più contagiosa l'R con 0 potrebbe addirittura salire oltre 20 che vuol dire che per ogni persona che si infetta ne contagia fino a 20 ma io non credo che sia tanto diversa rispetto alle altre Omicron per quanto riguarda la gravità quindi io penso che dovremmo stare tutti tranquilli dobbiamo sapere che può succedere che arrivi e sostituisca perché le varianti ci saranno sempre finché ci sarà il virus però io direi che possiamo stare tutti molto tranquilli che non credo che vedremmo quei quadri devastanti che vedevamo nel 2020 Grazie Professor Bassetti per terminare un messaggio soprattutto per i giovani su quella che poi in realtà come li ha più volte sottolineato l'importanza soprattutto su temi come questi su temi importanti per la salute è l'importanza dello studio l'importanza dello studiare e dell'approfondire le materie di cui puoi stare Guardi, lo studio è fondamentale perché io spero di vivere nel futuro che i miei figli vivranno in un paese dove merito e competenza siano ancora più considerati di quanto lo stiamo facendo noi oggi e per avere merito e per avere competenza bisogna dedicarsi allo studio bisogna saper soffrire bisogna avere tanta passione in quello che si fa ma la base oggi per poter fare qualunque tipo di mestiere è la formazione e quindi la formazione serve non solo quella universitaria evidentemente per fare un certo tipo di percorso ma anche la formazione sul campo e io credo e spero che si voglia andare anche nel nostro paese verso una maggiore vocazione alla competenza una maggiore vocazione allo studio una maggiore vocazione a quella che è la preparazione perché credo che la preparazione sia fondamentale quindi l'invito ai giovani è quello di studiare e quello di avere un obiettivo chiaro e di perseguirlo con tutti i mezzi possibili ma soprattutto con tanta applicazione e tanta passione grazie professore ricordiamo soprattutto il suo libro che trovate in tutte le librerie il mondo dei microbi il mondo dei microbi edizioni PM 2022 grazie ancora per essere stato con noi e per questa preziosa testimonianza grazie a voi credo ancora profondamente nel lavoro che faccio so che è necessario che lo faccia so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare grazie a tutti